Capitolo 1 di 30 Era una notte buia e fuori c'era un temporale. La giovane donna Sara stava passeggiando nel parco con il suo cane Polly, quando si accorge di essere osservata. Non c'erano fiori, nemmeno un raggio di luna. Si incammina con la sua Polly lungo le strade di casa, quando una macchina ferma gli fece segno con gli abbaglianti. Sara, incuriosita, bussa al vetro e la portiera si aprì. Un dolce profumo, un suono. Ma tu sei Sara del negozio di fiori? Sì, e tu chi sei? Sono il tuo destino. Sara sale in macchina e l'uomo la accomoda come una regina. Polly in braccio. Ti do un passaggio, gli dice l'uomo sferandole il seno. L'automobile partì. La luna era grande e piena. Sotto casa di Sara, la sua amica Giulia l'aspettava per un caffè. Il telefono di Giulia squilla era l'uomo, Sara è con me torna tardi e attacca. Giulia si tranquillizza per il ritardo della sua amica e va via. Sara in auto parla dell'importanza dei suoi sogni. Dove andiamo adesso? Chiede la donna. Lo scoprirai. Fine. Primo capitolo. In commenti troviamo Manuela che dice Puoi pubblicarli tutti subito? Odio le attese. Punto di domanda. Faccina che sorride. Antonella che chiede Ornella ma Sara sei tu? Elisa invece dice vorrei farti tante domande ma mi ha conquistato subito spero che pubblichi gli altri. Valeria spero che tra Sara e l'uomo scoppi l'amore. Fine. Amore capitolo 2 di 30. La strada è la deserta e la macchina su cui viaggiano Sara e l'uomo supera di scatto i 30. Apri il cassetto. Dice lui alla donna. Dentro trova sue vecchie foto. Ma questa sono io. Questa foto era a casa mia. Si lo so. Sara diventa rossa e il cuore batte forte forte. Era quello giusto? Il silenzio fu rotto dalla radio. L'uomo alzò il volume e si sentivano le trombe della canzone al ghero. Polly si addormenta in braccio a Sara e questa vide però nel cruscotto dietro alle foto un orologio e una rosa. Sara iniziò a capire tutto. Intanto Giulia, l'amica di Sara, decide di mettersi a letto a pensare. Sul comodino non c'era nulla. L'auto si ferma in un parcheggio vuoto di un supermercato. Ti dirò la verità, disse lei. Io so già tutto, risponde lui. Ne sono felice, conclude lei. Il tempo sembrava fermarsi. Poi lei sorride. Fine, capitolo 2. Nella sezione commenti oggi abbiamo Alessandra che dice Credo che quello che ha capito Sara lo abbiamo capito tutti. Beh, che dire. Ilaria invece tagga Ornella e dice Posso chiederti se hai seguito un corso di scrittura creativa? Una mia amica ha condiviso un corso che faranno a Bologna in un'associazione e volevo chiederti un parere anche in privato. Carla dice Mi piace molto, spero che la storia va avanti, come spero. Elisabetta si complimenta, semplicemente. E Federica invece dice Sono forse un po' brevi, ma troppo lungo scoccia sempre. Timidamente amore Capitolo 3 di 30 Sara e l'uomo si guardano teneramente negli occhi. Il cielo sereno fece comparire la luna piena. Lo tiro fuori? Dice lui. Lei sorride rispondendogli Il silenzio ai sentimenti. Apre la portiera e scende dalla macchina con l'affida a Polly. Lui se ne va. Nella passeggiata del ritorno Sara non fa che pensare a quella serata e alle varie possibilità. Dopo un'ora senza apostrofo intanto Giulia in giardino capisce che qualcosa poteva andare diversamente. Osserva il cielo spensierata e nota Sara arrivare al suo cancello. Le abbraccia Come è andata? Sara sorride Devo raccontarti tutto. Le due entrano in casa ma fuori dall'abitazione è parcheggiata l'auto di lui. Fine capitolo 3 Ornella poi qua aggiunge un Ragazze grazie a tutte grazie anche alle vostre segnalazioni di chi ci prende in giro ma il miglior disprezzo è la non curanza quando la persona è zero l'offesa è nulla. Per voi di Roma vi dico anche che sabato sto al più libri più ah sto al più libri più liberi con Sabrina gireremo gli sted dei vari editori per consegnare loro una copia di Timidamente Amore intanto arriveranno le prime risposte occhiolino. Inoltre una pagina che seguiamo tutte di consiglia alle mamme ha pubblicato un libro che troveremo proprio in questa fiera vediamoci tutte lì e commenti dicono Valeria dice l'importanza della luna nel racconto mi affascina Marta conferma la sua presenza a Roma dicendo Ornella io a Roma vengo Chiara invece dice puoi pubblicare invece che a puntata appunto di domanda faccina faccina io non resisto sono troppo curiosa e Maria Rosaria dice spero solo che lui fuori casa non canta una serenata perché è quello che mi aspetto e no dai ti amore capitolo 4 di 30 Giulia chiude la porta dietro di sé a 5 mandate Sara fu gioiosa nessuno Giulia l'accomoda con padronanza nella sala delle parole poi si siedono allora dimmi dice Giulia lo sai bene ormai risponde la giovane donna intanto fuori dalla casa qualcuno si avvicina alla porta Sara racconta all'amica di quando lui la accomoda in macchina di quando lui gli dice che ha occhi come stelle Giulia dimmi la verità lo sai che lo farò risponde l'amica e se ci fosse un'altra donna sempre senza apostrofo lo scopriremo manifesta Giulia un fulmine e la corrente va via qualcuno bussa alla porta Sara abbraccia Polli dalla gioia fine capitolo 4 la sezione a commenti oggi ci propone Claudia che dice Ornella sei bravissima Laura che chiede a Sabrina Ornella come è andata con gli editori e se ci sono andate alla fine un nome mezzo scurato che in secondia poi non si sa come finisce dice voglio sapere chi suona la porta adesso faccina che sorride Danila dice secondo me Giulia e Sara sono sorelle o Orne ancora non conosci niente e Federica che commenta ci dici quando pubblichi il resto grazie amore capitolo 5 di 30 nel buio della sala Giulia recuperò una luce e le due donne si avvicinarono all'ingresso chi è chiede l'amica di Sara alla porta sono Sonia era Sonia Giulia e Sara alla luce del lume tornano quindi ad accomodarsi sul divano polli in braccio a Sara e poi cosa ti ha detto lui chiese Giulia la fedele amica mi ha portata in un luogo di speranze risponde la Sara con tono amicale intanto l'uomo in macchina guarda le foto di Sara passando un dito sulle sue labbra e poi lo stesso dito sulla foto la luna era ormai piena in casa le due donne avevano raggiunto un'intesa la luna dalla tenda inondò tutto l'antro ti preparo la stanza degli ospiti per questa notte prendo la coperta con i fiori dice Giulia Sara la segue ma si blocca quando nota la camera da letto dell'amica e il suo comodino senza alcun nulla fine capitolo 5 nei commenti troviamo Alessandra che dice ciao Ornella volevo dirti che grazie a te anch'io ho ripreso a scrivere sono onorata risponde Ornella Giada invece chiede Ornella ti posso chiedere se ti ispiri a qualche altra scrittrice e se questo è non è è il tuo primo romanzo grazie e Ornella dice no io due anni fa ho scritto La luna è blu ma su un quadernone anche quella è una storia d'amore ma non ho il tempo di metterla sul computer mi piace molto Jane Austen ha scritto giusto però Jane Austen e Rosa invece dice complimenti ancora te l'ho già letto l'altra volta ma sono curiosa di capire il segreto amore capitolo 6 di 30 Sara decide di affrontare Giulia hai dato tu l'orologio alla rosa chiede la giovane donna all'amica di una vita Sara non voglio mentirti risponde Giulia mentre gli passa la trapunta Sara si chiude nelle sue stanze e decide che non tutto è sacrificio si assopisce Giulia prende la mano dell'uomo e lo porta via per sempre camminando sui petali ma era un sogno cosa significa durante la notte Sara si sveglia dalla finestra sgorga una luce Sara guarda fuori e vede l'uomo in piedi accanto alla macchina fammi salire dice l'uomo Sara gli lancia le chiavi con un sorriso aperta la porta l'uomo trova altre due porte di due stanze in una ci troverà Sara ma nell'altra ci sarà Giulia ne apri una e fine capitolo 6 timidamente amore capitolo 7 di 30 Sara in camera da letto si prepara per l'incontro sperando che l'emozione non la tradisca l'uomo arrivò sull'uscito della porta con il manico antico e girò la serratura all'interno del buio appare una donna oscura ha un fermaglio antico nei capelli e un abito pomposo sono Sonia la sorella gemella di Giulia dice la donna portando le braccia al ventre io non sono qui per te dice l'uomo vattene da questa casa dice Sonia indicandogli la porta dove sta lei riflette l'uomo vattene o guai a te conclude Sonia nel frattempo Giulia nella sua stanza sente tutta la discussione da dietro la porta e decide di non concedere altro tempo al suo ruolo tra lei e Sonia non poteva esserci discussione l'uomo decide di andarsene non dimenticando questo affronto di quella gemella sinistra Sara improvvisamente nella sua stanza sente un rumore dalla strada si affaccia e vede l'auto dell'uomo andare via sconvolta non vede neanche più la luna fine capitolo 7 qua un utente del tutto oscurato come commento mette Ornella grazie di tutto e complimenti per la tua storia anche una mia amica la sta leggendo anche se non fa parte di questo gruppo sei in altri gruppi timidamente amore capitolo 8 di 30 dopo quanto accaduto la giovane Sara decide che è giunto il momento di abbandonare quella casa e fa i bagagli affettuosamente prende il guinzaglio polli e si incammina verso l'ingresso quando Giulia interviene non andartene dice Giulia come faccio a sapere che sei Giulia e non Sonia chiese la padroncina di polli alla sosia dell'altra te lo garantisco disse la padrona di casa le due donne si abbracciano affettuosamente quando fissano insieme la porta della stanza di Sonia nel frattempo l'uomo per dimenticare quanto accaduto incontra una donna per strada che accetta la sua compagnia Sara fortunatamente non lo saprà mai in cucina Giulia decide di preparare una camomilla a Sara per tranquillizzarla affettuosamente bevi è calda dice porgendogli la tazza calda domani mattina mi aiuterai a trovarlo chiese Sara a quella che è la sua amica ospitante lo farò fine capitolo 8 timidamente amore capitolo 9 di 30 in mattinata Giulia bussa alla porta della sua giovane amica del cuore con un vassoio di colazioni Sara aprimi ma nessuno risponde Giulia apre la porta e trova un biglietto sul cuscino scritto con il rossetto rosso lo legge e intanto Sara gira con Polly al parco dove incontra l'uomo guardando e osservando le macchine ferme ma lui non c'è il sole brillava come la luna squilla il cellulare della giovane donna da parte di un numero anonimo sono io dice l'uomo te ne sei andato ieri sera disse Sara avevo un impegno risponde l'uomo dove sei chiede la giovane donna ti vedo dice lui Sara a quel punto si gira e non riesce a vederlo fin quando una mano la prende alle spalle fine capitolo 9 qui qui allora Angela dice non mi aspettavo questo colpo di scena Paola invece ringrazia Ornella di tutto la ringraziamo un po' tutti e Irene invece è molto curiosa di conoscere il nome dell'uomo eh cara Irene ci vuole ancora un po' timidamente amore capitolo 10 di 30 Sara per l'emozione lo abbraccia ma poi lo guarda meglio e non era lui e tu chi sei? dice la giovane donna all'uomo dinanzi a lei credevo fossi mia figlia dice l'uomo allontanandosi Sara riprende il telefono ma la chiamata era caduta nel frattempo Giulia l'amica di Sara passa silenziosamente dinanzi la camera di Sonia per non attirare la sua attenzione si infila il cappotto ed esce da quella casa stringendo tra le mani il biglietto lasciatole dalla sua amica di sempre il telefono di Giulia squilla era l'uomo grazie per il tuo aiuto dice lui dinanzi alla sua macchina lei non lo deve sapere disse Giulia sull'uscio di casa non lo saprà riflette l'uomo Sara prende polli e si dirige verso una radura dinanzi ai suoi occhi una scena la colpisce fine capitolo 10 qua tra i commenti abbiamo ma qualcosa che dice lo sapevo che Giulia era in qualche modo coinvolta in questa coppia faccina che sorride dom nome oscurato dice Ornella però tu ci tieni troppo sulle spine cuoricino e Gabriella che invece dice complimenti voglio sapere come finirà timidamente amore capitolo 11 di 30 Sara sconvolta non crede ai suoi occhi si nasconde dietro un albero e osserva la scena i petali di pesco piovevano dal cielo come magici sogni in mezzo alla radura sta succedendo qualcosa Sara guarda con attenzione e vede l'uomo che bacia Giulia i petali cadono tutti intorno e sarà in quel momento che la giovane donna si ricorda del suo sogno Sara scappa via portando polli con sé un comulo di ricordi invadono la sua mente sia quando gli diede un passaggio che quando sotto casa di Giulia gli disse di farlo salire per riflettere l'uomo passa le sue mani addosso a quella donna Sara non poteva saperlo ma nascosto nei capelli la donna aveva un fermaglio antico fine capitolo 11 ma qualcosa che ti prego manda il capitolo 12 commenta cioè disperata una donna distrutta vuole sapere come va avanti e Daniela che invece dice grazie a te ho ripreso a scrivere le mie storie e spero un giorno di poterle condividere con voi minchia spero proprio arrivi un'altra vata e ornella tra noi timidamente amore capitolo 12 di 30 Giulia sale in macchina e prova a chiamare la sua amica Sara ma la chiamata viene sempre rifiutata mette in moto e capisce che qualcosa è andato storto la foschia bruna dai cieli intensi inonda il paesaggio cittadino la giovane donna Sara vede sul suo cellulare le chiamate di Giulia ma decide di ignorarle entra in un negozio di caffè e ne ordina uno seduta a un tavolo con la sua fida Polly è vero quello che ho visto chiede la giovane al cane Polly la guarda con amore Giulia in macchina passa davanti al parco e vede l'uomo uscire mano nella mano con sua sorella Sonia Giulia resta sconvolta e si abbassa per non farsi vedere la cameriera porta il caffè a Sara e gli lascia un volantino sul tavolo tra due giorni in città c'è il gran ballo cittadino sull'opuscolo c'è scritto porta il tuo uomo o la tua donna Sara sorride e capisce che non tutto è perduto fine capitolo 12 qua va bene i commenti gente in estasi per il ballo e poi altra gente che invece appunto disperata chiede come si chiama l'uomo il signor destino come si chiama timidamente amore capitolo 13 di 30 finito il caffè Sara si reca nella strada delle novità portando con sé Polly notò una vetrina con dentro un abito perfetto è quello il vestito che doveva indossare al ballo entra nel negozio dicendo buongiorno intanto Giulia in macchina vede Sara entrare in un negozio e decide di parcheggiare per dirgli le sue rivelazioni Sara esce dal camerino con indosso l'abito perfetto ti sta proprio bene dice la dama del negozio lui non noterà rispose la giovane donna lo puoi dire solo tu risponde la signora tornando al suo posto Giulia entra nel negozio perfetto e incrocia lo sguardo di Sara che ci fai tu qui chiede la giovane donna Sara alla sua amica devo parlarti disse Giulia lo hai baciato al parco ti ho visto dice Sara con il suo sguardo ma quella non ero io in quel momento le due donne guardano la vetrina fuori in strada e l'uomo e Sonia passeggiavano indisturbati fine capitolo 13 timidamente amore capitolo 14 di 30 Sara corse in strada ma l'uomo e quella donna erano scomparsi nel frattempo Giulia decide di raccontare tutto e fare chiarezza alla signora delle scelte che aveva poco prima consigliato la sua amica gli dice che Luigi qualche giorno prima l'aveva fermata in strada per sapere di più sulla sua amica Sara e che provava qualcosa per lei a quel punto Giulia gli disse che il sogno di Sara era quello di trovare un uomo del destino con un orologio e una rosa l'orologio come simbolo del tempo da trascorrere insieme e la rosa come bellezza Luigi fece poi finta di incontrarla per caso e da quel momento i due erano inseparabili tutto chiaro adesso disse la donna io ora vado gli comunica Giulia la donna uscente la salutò Sara in strada in quei momenti osservava il cielo e il sole iniziava a nascondersi mancava poco all'arrivo della luna fine capitolo 14 Michela commenta dici se finisce bene ti prego insomma le pancene non ci stavano più dentro è stato proprio timidamente amore capitolo 15 di 30 Giulia insegue Sara fino a fermarla aspettami disse la donna senza timori dimostrami che sei tu l'unica Giulia dice Sara proteggendo Polli nessuno sogna se i sogni sono veri ma se il sogno viene dal cuore e nessuno lo rifiuta dimmi la verità e sono la tua amica Giulia in quel momento Giulia ha recitato a Sara la frase che la sua giovane amica gli aveva scritto gli avevo scritto nel biglietto che era sul cuscino nella sua camera sotto a quella frase era anche scritto di dirla se sospettava che non era lei Sara si tranquillizza e la abbraccia senza timori nel frattempo Sonia e Luigi entrano in macchina ti porto in un posto dice l'uomo alla donna sfiorandole il seno sì rispose la sorella di Giulia l'automobile partì senza attese Giulia e Sara tornano a casa e poggiano sul tavolo la busta con il vestito piegato manca poco al ballo dice Giulia tu dici che mi inviterà chiese Sara alla padrona di casa non ho timori conclude la padrona di casa fine capitolo 15 qua uno dei commenti dice ma Sonia che tipa con la sua amica e un altro che invece Ornella posso spedirti un mio racconto per sapere da te che sei bravissima cosa ne pensi grazie wow timidamente amore capitolo 16 di 30 Sara e Giulia sono accomodate nella sala blu quando una domanda apre il discorso mancano due giorni al ballo il telefono squillerà da un momento all'altro lo penso pure io conferma Giulia tu mi aiuterai insiste Sara dimmi cosa devo fare nel frattempo era arrivata la sera e Luigi e Sonia arrivano nel luogo dove era stata anche Sara il parcheggio del supermercato per chi non se lo ricordasse Sonia inizia le sue mosse mentre l'uomo si toglie gli indumenti il calore i raggi della luna filtrano attraverso i vetri i corpi crudi ovunque c'era gioia intanto le due amiche sorseggiano una tisana da una tazza a casa di Giulia quando Sara dice accarezzando Polly dovrai far finta di essere Sonia e dirgli che non vuoi andare al ballo con lui promettimi che andrà tutto bene solo se nessuno ci ostacola sorride Sara le donne si alzano e si recano fuori alla porta della camera di Sonia Giulia apre la porta con uno sguardo verso Sara grazie alla chiave segreta entrano all'interno e Giulia accende le luci mille luccichi intorno a loro nel salotto con i fiori che viene prima del letto le donne iniziano a indagare guarda qui disse Sara indicando uno scrigno Giulia lo apre e dentro trova un fermaglio antico uguale a quello che indossa sempre sua sorella fine capitolo 16 Stefania dice questo capitolo però mi disturba un po' perché asterisco e apostrofo lo vedo esplicito in alcuni punti poi non so mia opinione e beh c'ha ragione non ci sono più le meze stagioni siamo tutti un po' turbati timidamente amore capitolo 17 di 30 a Sara e Giulia venne la stessa idea sul come agire si fissano per un attimo mentre la padrona di casa mostra tutti il fermaglio improvvisamente un rumore attira la loro attenzione Sonia stava aprendo la porta d'ingresso che era ben chiusa non possiamo farci trovare qui dice Sara Giulia infila il fermaglio in tasca e entra con Sara nel bagno privato della sorella Sonia entra nella stanza e si guarda intorno insospettita accende la radio e nella sala si sente il ritornello della canzone Valeria di Elsa Lila la gemella di Giulia si toglie gli abili e si avvolge in una vestaglia sta venendo da questa parte bisbiglia Giulia a Sara le due donne dal bagno entrano nell'anticamera dei momenti qui non ci troverà disse Giulia Sonia entra in bagno e allo specchio inizia a struccarsi Giulia e Sara dietro alla porta sperano che tutto va per il meglio in bilico Sonia sente a bagnare esce dal bagno e trova Polly nella sua camera la caccia via in corridoio questo permetterebbe le due intrufolate a scappare Sara e Giulia entrano nello studio biblioteca è tutto risolto dice Giulia adesso lo devi chiamare con il telefono di Sonia e gli devi dire che devi parlargli dice Sara alla sua complice lo farò risponde la sua amica di sempre fine capitolo 17 timidamente amore capitolo 18 di 30 Sonia entra in doccia e le due amiche decidono di approfittare della situazione Giulia e Sara tornano nella camera e mentre la fioraia controlla che Sonia non esce dal bagno Giulia rovinsta nella borsa della sorella prende il telefono cellulare e esce in quel corridoio senza fiori Giulia controlla le chiamate e chiama Luigi dimmi dice l'uomo alla donna ho bisogno di vederti disse Giulia facendo finta di essere Sonia ancora vero? chiese Luigi alla sua amante sì risponde Giulia vediamoci al posto di cui ti ho parlato tra un'ora dice lui quale posto? chiede la donna lo sai e attacca dalle vetrate in corridoio la luna faceva capolino seguendo Giulia intanto Sara controlla che Sonia non esca dalla doccia e resta sconvolta quando vede nel cestino del bagno un test di gravidanza fine capitolo 18 timidemente amore capitolo 19 di 30 Sara guarda meglio il test di gravidanza ma si era sbagliata era un porta incenso esce dalla camera di Sonia e raggiunge Giulia in cucina cosa ti ha detto lui? chiede Sara vuole vedervi tra un'ora in un posto che ama ma non so quale secondo te quale potrebbe essere? risponde la sua migliore amica al museo risponde Sara hai ragione disse Giulia prende il fermaglio dalla tasca e lo indossa adesso sei perfetta dice Sara Giulia decide di andare da Luigi mentre Sara resta a casa con Polly mentre tiene di occhio la sorella della sua amica la giovane donna è accomodata sul divano dell'ingresso e controlla il corridoio senza fiori Polly si ferma Giulia giunge al museo che era chiuso per l'ora tarda e davanti alla porta vede Luigi l'uomo la tocca ma Giulia fa un passo indietro volevo dirti che non voglio venire con te al ballo dice la donna quale ballo? gli chiede l'uomo non voglio neanche più vederti dice Giulia va bene ma voglio un ultimo bacio disse lui sì replicò Giulia durante quel bacio di cinque minuti l'uomo le passa le mani addosso ma in lontananza una mano femminile con un cellulare fotografa la scena fine capitolo 19 tra i commenti abbiamo Giovanna che chiede e chi è questo adesso faccina arrabbiata faccina arrabbiata faccina arrabbiata faccina arrabbiata e una sa qualcosa che dice Giulia si sacrifica per la sua amica lacrimuccia in questo bacio di cinque minuti timidamente amore capitolo 20 di 30 Giulia rientra a casa togliendosi da dosso quei baci Sara nell'attesa della sua amica fidata ammirava la parete dei diplomi poi giunge Giulia tutto fatto disse la padrona di casa perfetto dice Sara ti preparo la stanza degli ospiti prendo la coperta con le ginestre dice Giulia introducendosi in uno dei corridoi Sara la segue con polli quando nota sul collo della sua amica un segno chiaro e questo come te lo sei fatto chiese la giovane donna Sara non ti mentirò disse Giulia congenando l'amica alla sua camera Sara entra e ammira sul manichino l'abito perfetto Sara si indumenta per andare a letto quando riceve una chiamata anonima era l'uomo domani dice Luigi al chiaro di luna nel frattempo sul telefono di Giulia arriva un messaggio anonimo con la foto scattata fuori al museo e la frase io dirò tutto Giulia resta sconvolta fine capitolo 20 timidamente amore capitolo 21 di 30 il sole sorgeva sulla città che si svegliava e il suo calore inondava le strade salutando la luna Sara si sveglia il giorno del ballo era arrivato la giovane donna entra nelle cucine delle due sorelle e si accomoda poi entra Sonia per quale motivo sei ancora qui chiese la ragazza col fermaglio antico non devo dirti i motivi disse la giovane fioraia Sonia nega il suo istinto e si accomoda di fronte alla estranea bevendo del latte caldo le due donne si scrutano con attenzione nel frattempo Giulia in giardino non fa che pensare alle varie possibilità e a chi gli ha mandato quel messaggio sul telefonino nella sua mente si vedevano i suoi nemici fin quando capi tutto nelle cucine Sara è ancora con Sonia vai al ballo questa sera? chiede la padroncina di Polly sì e non da sola disse Sonia il telefono di Sara si illumina da una chiamata anonima la ragazza risponde e esce dalla stanza in giardino Giulia ha un flash black e vede che a tenere in mano il telefono fuori al museo era la dama delle scelte fine capitolo 21 timidamente amore capitolo 22 di 30 Giulia agitata è nella sua camera e osservare lo specchio ma nel riflesso vede la signora del negozio con le braccia incrociate che dice tu non sai niente la padrona di casa si gira ma non c'è nessuno era un'allucinazione nel frattempo Sara rimasta sola in cucina decise di preparare con Polly la torta mille delizie e si dà subito da fare la torta era la sua specialità per conquistare un cuore Giulia decide di dare ascolto ai sentimenti e esce di casa senza dire nulla alla sua amica di sempre per andare al negozio degli abiti dove era stata con Sara per chierire tutta la situazione la signora la attende con le braccia incrociate credevo fosse una mia amica disse Giulia io e lui abbiamo avuto una storia importante la settimana scorsa rispose Amelia Amelia ricorda di quando lui la fermò in strada dicendogli ciao sogno come ti chiami e lei emozionata accettò io l'ho fatto per Sara definisce Giulia questo lo giudica lei quando lo saprà concluse la dama Giulia fugge via fine capitolo 22 timidamente amore capitolo 23 di 30 Giulia rientra in casa e non trova nessuno sul tavolo della cucina trova una torta con un biglietto scritto con il rossetto rosso non toccare dice il biglietto nel frattempo Sara è con Polli spensierata emozionata per la serata che l'aspetta e saluto tutti sorridendo fin quando arrivò dinanzi a una casa dove vede ferma la macchina dell'uomo legge il citofono e trova il suo nome bussa sorridendo e aspetta Sonia è nella sua camera e fa finta di non esserci quando Giulia dalla cucina chiede se c'è qualcuno la gemella dell'amica di Sara indossa il suo abito e fa delle prove nella sua camera sorridendo fuori alla casa dell'uomo compare una donna dietro Sara e Amelia che gli dice ti devo parlare Sara dice sì intanto Giulia riceve un messaggio sul cellulare da Luigi lo sapevo che non eri Sonia e voglio stare con te Giulia rimprovera se stessa fine capitolo 23 allora tra i commenti abbiamo Serena che dice Ornella io comunque spero che questa storia non esce dai suoi binari io non voglio sembrare esagerata ma dico anche a Sabrina che qui bisogna dare dei valori anche se è un gruppo è una storia che sto leggendo anche le mie figlie non può finire con la protagonista che non sta con il principe azzurro che se le scopa tutte quindi cerca di rivedere un po' con la storia perché lui deve mettersi con Sara alla fine di questo è il mio pensiero Anna dice Serena ma la storia ancora ancora a non è finita che ne sai che finisce come dici tu se poi il finale non ti piace tua figlia te lo inventi ma che discorsi fai e Donatella dice concordo con Anna puoi inventare tu il finale ma voglio dire a Ornella non farlo finire male torna sulla retta via grazie figlia che ti ammazzo esatto timidamente amore capitolo 24 di 30 Sara e Amelia si siedono su una panchina immersa nei fiori adesso dimmi disse la fioraia nervosita guarda rispose la signora mostrando il telefono con la foto di Giulia e Luigi che si baciano Sara resta sconvolta e si alza andando via con Polly dicendo non mi dimenticherò della tua amicizia intanto Giulia a casa telefona all'uomo per chiarire i suoi misteri dimmi rispose lui parliamone dal vivo dice Giulia arrivo dice lui e attacca l'amica di Sara esce dalla cucina superando il clavicembalo e incontra Sonia in corridoio ho chiamato e non ha risposto nessuno disse Giulia spaventata non volevo rispondere replica Sonia con chi stavi parlando chiede sempre Sonia con un mio amico dice Giulia entrando in camera sua lasciando Sonia in quel corridoio elucente intanto Sara apre la porta d'ingresso con la chiave degli ospiti dicendo sono tornata Giulia dalla sua camera la sente poi sul suo telefono appare un messaggio di Luigi sono arrivato sto salendo Giulia si panica fine capitolo 24 timidamente amore capitolo 25 di 30 Giulia esce dalla sua camera e riceve Sara con grazia dobbiamo parlare dice la fioraia la padrona di casa Giulia la accomoda con padronanza nella cucina spostando le teiere poi suonano la porta aspettami qui dice la gemella Giulia apre la porta e trova Luigi l'uomo entra in silenzio e aspetta la situazione giusta vieni con me gli dice Giulia con grazia i due entrano nella camera che dava sulla terrazza l'uomo la tocca ma Giulia si sposta di lato aspettami qui ripete la donna Giulia esce da quella camera e incontra Sonia in corridoio tu nascondi qualcosa dice la sorella a Giulia nel frattempo Sara esce dalla cucina con polli e si dirige verso il corridoio con le gemelle chi di voi è Giulia urla la fioraia non pensando ad altro sono io dicono entrambe fissandosi male nessuna delle due donne aveva il fermaglio nei capelli e Sara inizia a conservarle da vicino ma polli sente qualcosa e si avvicina alla camera con la terrazza la maniglia si abbassa e la porta si apre la luce invade le donne fine capitolo 25 timidamente amore capitolo 26 di 30 la luce del sole inondò le donne come se era quella della luna Sara si ripara il viso con una mano per non essere acciecata le donne entrano nella camera e la trovano vuota ma con il balcone della terrazza aperto Sara esce fuori e trova una corda di lenzuola che scendono fino alla strada chi c'era qui? chiede la fioraia alle gemelle lo voglio sapere pure io disse Sonia porgendo Giulia non lo so risponde Giulia uscendo dalla stanza Sara la segue e la afferra per un braccio adesso tu mi dici la verità insiste la giovane donna Sonia le raggiunge indossando il fermaglio improvvisamente dalla segreteria telefonica di casa si sente un messaggio dell'uomo appena ricevuto passo a prenderti alle 8 per andare al ballo e attacca scusatemi ma io vado a prepararmi dice Sonia abbandonando le due donne lo so che lo hai baciato dice Sara a Giulia mentre dalle finestra si vedevano i petali piovere sulla città ma adesso aiutami che le 9 sono vicine e sentito verrà a prendermi qui Sara entra nella stanza degli ospiti per indossare il vestito a quel punto Giulia per non litigare con la sua amica decide di andare al ballo con un altro uomo e apre la sua agenda fine capitolo 26 timidamente amore capitolo 27 di 30 Sara indossa l'abito e chiede a Polly se avvererà il mio sogno Polly la guarda intanto Giulia affronta lo scalone per telefonare senza essere disturbata al piano di sopra entra nella serra e tra i fiori chiama con il cellulare il primo della lista ho bisogno di un piacere disse la donna al telefono con un uomo Sara esce dalla sua camera con indosso l'abito elegante e cerca Giulia ma non la trova si ferma nel lungo corridoio fissando sul muro il dipinto con la luna poi arrivò Sonia anche lei vestita di tutto punto e con il fermaglio nei capelli con chi vai al ballo? chiede la gemella della sua amica alla giovane donna con una persona rispose Sara lentamente anche io con una persona riflette Sonia Giulia scende le scale ed entra nella sua camera per vestirsi anche lei sul suo comodino trovò il suo libro preferito il segreto di Patrizia della bravissima scrittrice Ornella lo leggerò con piacere disse Giulia indossa un abito da sogno ed esce dalla stanza raggiungendo le altre due donne mancava poco al tempo dell'attesa fine capitolo 27 timidamente amore capitolo 28 di 30 suonano alla porta e Sara con il suo abito corre lungo il corridoio degli specchi per poi aprire la porta che era chiusa aperta la porta abbraccia l'uomo d'impulso ma non era lui sei tu Giulia? chiede l'uomo con la cravatta Sara dice no mentre dietro di lei appare la sua migliore amica eccomi dice la sua padrona di casa salutando l'uomo con due baci Sara io vado al ballo con lui ci vediamo lì disse la donna non sapevo che tutto fosse dice Sara Giulia la zittisce e prende la mano dell'uomo con la cravatta lasciandola a casa Giulia e il suo uomo superano il cancello fin quando non vede Luigi arrivare con la sua auto Luigi la guarda lei lo guarda i due si guardano Luigi scende dalla macchina e ignora la coppia avvicinandosi al cancello nel frattempo Sonia vede tutto dalla finestra e pensa a una strategia entra nella sala con l'uccelliera e sente il magico suono dei passeri Sara vieni qui Polly ha sporcato disse la donna nascondendosi dietro alla porta Sara entra e con un movimento circolare Sonia esce chiudendola dentro la chiave poi corre verso l'uscita della casa fine capitolo 28 timidamente amore capitolo 29 di 30 Sonia si avvicina all'uomo e lo abbraccia girandolo per non fargli vedere la facciata della casa Sara batte contro la finestra urlando ma le finestre erano chiuse e non udenti Sonia guarda Sara e sorride poi accompagna Luigi alla macchina e i due partono via Sara disperata prova ad aprire la porta ma non succede niente allora chiama Polly ma non risponde Giulia arriva al ballo con il suo cavaliere che la prende come per la prima volta mi ami? disse l'uomo con la cravatta Giulia conosceva già la risposta e la scrive in un biglietto prezioso lo passa al suo uomo che sorride Sonia e Luigi arrivano al ballo e Giulia resta sconvolta dove è Sara? chiede alla sorella somigliante non è voluta venire rispose Sonia improvvisamente la porta della camera in cui era chiusa Sara si apri una donna gli sorride grazie Nancy dice Sara ringraziando la governante di Giulia divertiti al ballo rispose Nancy Sara prende Polly in braccio e corre lungo la sala delle parole fino a uscire da quella casa diretta al ballo fine capitolo 29 timidamente amore capitolo 30 di 30 Sara arriva al ballo con Polly e appena entra nella sala il musicista dietro al mobile con i dischi fa suonare le canzone Believe di Cher tutte le persone presenti iniziano a ballare con eleganza Sara vede Giulia che balla con il suo uomo vedi Luigi? chiese Sara all'amica ritrovata no ma non serve attendere disse Giulia con eleganza indicando una direzione Sara si incammina senza timori e dietro delle persone trova Luigi che parla con una donna era Sonia nel frattempo Giulia capisce di non amare il suo accompagnatore e lo saluta con un sorriso decide di raggiungere quindi Sara e sua sorella Sonia quando nota dietro a una tenda una figura che dice aspetta dalla tenda esce Amelia mentre le farfalle volavano fuori dalla finestra raggiungendo la luna il musicista cambia canzone e nella sale si sente la musica di Sweet Dreams di La Bush Sara si avvicina alla coppia e spinge Sonia come ti sei permessa di chiudermi in casa? chiede Sara alla donna con il fermaglio non credevo che saresti venuta disse Sonia Giulia e Amelia discutono e Sara le vede da lontano non puoi averlo dice Amelia Giulia io non lo voglio dice Giulia a Amelia la musica cambia ancora e si sente dalle casse Rhythm of the Night Giulia si avvicina a Sara e Amelia la segue senza mettere i piedi sui petali che qualcuno aveva lanciato come augurio adesso basta dici chi vuoi dici chi vuoi che sta con te stasera dice una persona dal pubblico io so con chi voglio stare dice Luigi davanti a tutte fine capitolo 30 timidamente amore capitolo 31 di 30 o capitolo finale le donne si avvicinarono tra loro incuranti della luna le altre dame guardavano la scena nascondendosi dietro i ventagli Luigi Luigi fissa le donne e si avvicina ad Amelia e gli dice una cosa nel orecchio la dama delle scelte guarda l'uomo e sorride poi guarda le altre e va via senza voltarsi Sonia si avvicina a Luigi e gli dice io non ti voglio più Sara e Giulia si guardano prendendosi per mano mettendosi vicine di fianco Luigi guarda Sonia e dice come vuoi tu Sonia lascia quella sala dicendo a Giulia non torno più a casa vado via per un lungo viaggio ora sei sola Giulia non dice nulla alla sorella mentre la gemella va via uscendo dalla porta principale Luigi si avvicina a Giulia e gli sorride poi riesce a dire in un orecchio a Sara solo timidamente amore Sara lo abbraccia con polli Giulia lascia la mano di Sara e scompare tra le danze Sara e Luigi si baciano appassionatamente mentre il musicista fa suonare I want the dead way dei backstreet boys tutti nella sala applaudono alla coppia polli per la gioia corre tra i petali fine commenti bellissimo cuore 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 e felicissima per Sara cuore 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 ma specialmente ma specialmente Liana chiede ma cosa dice Luigi a Amelia diccelo ti prego e Ornella risponde lo scoprirete intimidamente amore 2 lo sto scrivendo adesso tan 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 tan